Oggi i temi trattati sono stati tanti, però la platea ha rilevato alcuni particolari punti di attenzione, le misure per i giovani ad esempio, l'importanza di contrastare l'esodo dei giovani, soprattutto quelli con le lauree qualificati, verso altri territori perché la nostra regione offre poco, si è quindi parlato delle borse di ricerca, si è parlato di un sostegno alla creazione delle start-up innovative negli ambiti della strategia di specializzazione intelligente, quindi si sono già date alcune risposte a questa criticità. Un altro tema interessante è stata la richiesta di potenziare il ruolo dei centri per l'impiego nella gestione ed assegnazione delle politiche del lavoro, quindi qui abbiamo dato rassicurazioni sul fatto che sia su Gol, sia sul POR FSE i centri per l'impiego avranno un ruolo più attivo e potenzieremo soprattutto l'area dell'incrocio domanda e offerta. Grazie.